51 anni di attività dell'Associazione Tennis Tolentino, fondata nel 1966, anche se a quel tempo si chiamava Unione Sportiva Tolentino Sezione Tennis. Marco Sposetti, maestro federale e responsabile di questa associazione di Tolentino, tracciamo un bilancio della stagione 2017? Sicuramente è un bilancio positivo, nonostante poi quello che è successo a Tolentino, insomma il terremoto e quant'altro, che sicuramente nei primi mesi del 2017 un pochino ci ha penalizzato come ha penalizzato tutti, però devo dire che adesso siamo rientrati alla normalità. Poi noi fortunatamente abbiamo avuto anche il sostegno del Comune da questo punto di vista perché ci ha sostituito un pallone, siamo ridiventati operativi quasi subito e anche come affluenza stiamo tornando alla normalità. Il bilancio quindi è assolutamente positivo, anche come Scuola Tennis abbiamo confermato gli iscritti dell'anno precedente e anche a livello di attività sociale siamo rientrati tranquillamente come il prima sisma, come antesisma. E quindi bene insomma, adesso siamo tornati con i vecchi problemi, nel senso che siamo molto stretti come spazi dentro la nostra struttura, però stiamo andando avanti con le varie attività. Adesso chiuderemo l'anno con un tornato sociale che è già iniziato, chiuderemo con la solida festa di Natale per la Scuola Tennis e è già iniziato il campionato regionale, quello invernale, noi partecipiamo con quattro squadre maschili e una femminile, quindi insomma è tornato tutto alla normalità. In piena attività quindi l'attività agonistica anche se praticamente a livello dei risultati sono le signorine che si distinguono sugli uomini. Sì, abbiamo anche uomini che giocano molto bene a tennis e ragazzi che stanno crescendo molto bene, però è vero, ultimamente abbiamo molte soddisfazioni dal settore femminile, adesso lasciamo perdere insomma le più grandi, Laria, Luisa e quant'altro, ma abbiamo delle ragazzine piccole che stanno iniziando un percorso di attività agonistica serio, impegnativo, che ci stanno dando ottimi risultati. De Angelis e Ginevra poi ne avevamo già parlato insieme qualche mese fa, fa parte dei centri di aggregazione provinciale, quindi è in pianta stabile nella rappresentativa provinciale e da quest'anno fa parte anche del team Marche. Considera che nel team Marche vanno le prime quattro giocatrici di ogni categoria e quindi lei è nel team Marche, quindi vuol dire che è tra le prime tre e quattro, poi se uno, due, tre o quattro questo lo vedremo in corso d'opera. La stessa cosa per un'altra ragazzina del 2009 che è molto brava, che è De Leo Martina, anche lei è in pianta stabile nel centro di aggregazione provinciale e fa parte anche lei del team Marche. Quindi diciamo che come associazione stiamo cercando di lavorare molto sulla qualità, cercando di far andare questi ragazzi nel più breve tempo possibile ad un livello che sia regionale e poi perché no anche nazionale. Poi ti ricordo che anche insieme a loro ci stanno anche altri ragazzi di interesse provinciale e regionale, mi viene in mente Passarotti Tania, Gasparini Luca, Quintili, Federico, Borgiani, Andrea, insomma ce ne stanno tanti, non ti li sto qui a delancare tutti. Cioè l'attività sta andando bene, i ragazzini stanno lavorando seriamente, si impegnano, adesso incominciano le competizioni e quindi speriamo che vada tutto bene.